Buongiollo Buonasera dovrei dire Non ho cambiato la musica nel pre-live No Vabbè per ora la disattiviamo Buonasera Sto giusto facendo i soliti post d'avviso Che effettivamente adesso li sto Solito li faccio prima Li sto facendo adesso al volo Spero stiate tutti bene Ok Ho quasi finito Tanto nel frattempo voi arrivate Buonasera Buonasera a tutti Allora Ok Anche qua gli avvisi sono stati fatti Sì A posto Bene Avvisi fatti Buonasera 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 a tutti Buonasera a tutti Allora Ragazzi Spero stiate bene Come ho detto Stasera vediamo Stasera vediamo Orchi Teoricamente E poi vedremo Ho grandi aspettative Aspettative E dunque grande paura Ha senso È possibile che Facciano un codex Separato Quindi secondo me Sarà appunto Un code Semplicemente Il nuovo codex Orchi Annunciato Annunciato stasera Secondo me Sì Ho sentito Ho sentito Tipo su Ah Sul The Grand Alliance Ok Che la live di domani Sera dovrebbe riguardare Le serie animate Pensi sia plausibile o no Ma allora Già questo Già lo trovo Una Una cosa un po' più sensata Rispetto a quello che poteva essere Magari L'idea su I gameplay di Total Warhammer Già una cosa sulle serie animate Avrebbe senso Ci sarebbero sicuramente Quelli che direbbero Ma non è Warhammer The Old World Ma non è la terza edizione Di Joe Sigmar Però secondo me Ci starebbe Sarebbe sicuramente fuori Dalle aspettative Di varia gente Però sarebbe comunque Una cosa A mio parere Positiva Perché Più che altro Se Sono Se sono news Riguardo le serie animate Io spero vivamente Che Per una roba del genere Inizino a parlare di date Perché Ma fa piacere Che comunque Cioè ovviamente sono cose Che per cui Che richiedono tanto tempo E Nella produzione Specialmente quando Poi comunque Non è che hai Produzioni enormi Non c'è Non sei un Netflix Non sei un Amazon Non sei Amazon Per quanto grande Sei Games Workshop Quindi non hai la produzione Grossa quanto Altra gente Però Dopo tutti Sti aggiornamenti Spero che Se veramente Parlassero domani Delle serie animate Spero che almeno Una data Per Angels of Death Spero almeno Quella Se proprio ne parleranno Già quella Però comunque La trovo Una Un'ipotesi Già un po' più plausibile Ciao Nick Seguo sempre su Facebook Guardian Ah ma riconosco Il tuo Riconosco il tuo nickname Prima live Eh grazie Grazie C'è sempre la prima Quando uno può Segue Grazie mille E Potrebbe Eh beh Non so Magari Non so se magari Parleranno solo di quello Ma non so Su TGA Era Era un'ipotesi O era qualcuno Che pareva sapere qualcosa Ah se noi nuovi orchi Potrebbero essere Il nuovo libro di Charadon Anche Anche Però che siano esclusivi Lì Ne dubito Comunque essendo In un'edizione In cui il codex orchi Ancora manca Secondo me L'ipotesi Di un codex orchi Avrebbe senso E abbiamo DMTPG78 Grazie mille Grazie per il follow Anch'io ho sentito dire Domani Tre video Ok Ok Non Non avevo visto Questa cosa Beh dai Se è così Comunque A me Se effettivamente Fanno vedere Delle cose Corpose A me va bene Importante Che effettivamente Se Se effettivamente Parlano delle serie animate Spero siano effettivamente Delle news Interessanti E non magari Proprio filmatini brevi Del tipo Abbiamo lavorato In questi mesi Buonasera Beric Buonasera a tutti quelli Che stanno arrivando Speriamo domani Spolire una roba Di Joe Sigmar Allora Devo dire che Se devo esprimere Una preferenza Preferisco Una news Sulla terza edizione Di Joe Sigmar Le serie animate Io le sto attendendo E spero veramente Che arrivino Nello stato Migliore possibile E Appunto Quando devono arrivare Però ovviamente Se devo dire Una preferenza Su cosa vorrei Di cosa vorrei Un annuncio domani E Joe Sigmar Terza edizione Mi piacerebbe Un po' di più Le serie animate Boh Quando arrivano Va bene Io stesso Quando arrivano Quando sento parlare Di serie tv Che mi interessano Boh Quando arrivano Arrivano Quando arriveranno Le guarderò Sarò emozionatissimo Quando le guarderò Ma finché non ci sono Sono molto tranquillo Sulle date di uscita Vediamo Vediamo Se parlano Della terza edizione Potrebbero Non so neanche Se magari Mostreranno Subito Il set base Potrebbero Magari Semplicemente Iniziare A parlare Del fatto Che esiste Sta arrivando E Parliamo Un po' Di che Novità Potrebbe portare Vediamo Vediamo Non lo so È detto È un mistero È un mistero Ma come Ho già ribadito Un po' In questi giorni Ha senso Crearsi un po' Delle aspettative Ma Non proprio Creare delle aspettative Gigantesche Perché altrimenti Ovvio che Verranno Automaticamente Deluse Una terza edizione Di già Ma Perché alla fine Bene o male Adesso Si va più o meno Sui due o tre anni Di edizione Edizione Alla fine Si fa un po' Un ciclo Di manuali Ci sono Alla fine Più o meno Per ora Parrebbe Che il ciclo Sia quello Io personalmente Sarei più contento Se mantenessere Un modello Dei General's Handbook O vabbè I Capitulum Ad Probabil Quelli che ci sono I Chapter Approved A me Preferirei Ed è una cosa Che avevo già espresso In certi speciali Che avevo scritto Mi piacerebbe Un po' Di più Se facessero Appunto Un Un Living Rulebook Di quel tipo Capisco che Comunque Ogni tot anni Tu comunque Fai un tot Di Di aggiornamenti Con Chapter Approved O General's Handbook E poi fai un nuovo Aggiornamento Per diciamo Per collimare il tutto Però Bene o male Si Sarebbe in linea Con i tempi Avrebbe senso E bene o male C'è anche questa Tendenza Un po' A Far coincidere Eventi grossi Narrativi Con Anche l'uscita Di una nuova edizione Lo è stato Il Necrosisma E bene o male Il Necrosisma Adesso è stato E' finito E Almeno le sue conseguenze Sono terminate Le guerre delle anime Stanno terminando E quindi Presumibilmente Adesso con gli eventi Di Broken Realms Adesso si arriverà Un altro grosso Un altro grosso evento Che darà il via Magari grandi conseguenze Generiche Generali Nell'intera ambientazione E che setterà Ovviamente Lo status quo Per ciò che sarà La terza edizione E varie storie Manualistiche E romanzate E romanzate Dei prossimi anni Anche età del caos Ed età del mito A volte Quindi Vedremo Sì Roba 40k E Just Sigma Dipende A volte Le nuove edizioni Non sempre Seguono proprio Lo stesso Identico Modus Operandi In quanto Ha annunciato Un tot Di mesi prima A volte C'è qualche C'è qualche Differenza Il calendario Finora è stato 40k E Just Sigma Pittura Contrast 40k Quindi era il momento Di Just Sigma Ma dipende Anche lì Non è proprio Un pattern Precisissimo Quindi Non è neanche Proprio da prendere Un piano Ferreo Di questo tipo A volte Potrebbero avere Più o meno Un'allimazione Linea In generale Però Non proprio Perfettissimo C'è sempre Si tengono comunque Molto larghi Al riguardo Buongiorno Buonasera Anzi Buonasera Vedo che qualcuno Aveva commentato Il post Di annuncio Del Qualcuno Chiedeva Quante live Ci sono ancora Allora Rispondo Un momento Perfetto Dissevamo Se mi permette Una domanda Off topic Figurati Dai Stavo leggendo Il codice Dark angels Tu sai Che sta succedendo Nelle stelle Somnium Ah purtroppo Non ho ancora Letto Quindi Non ti saprei dire Penso Possa essere Se ricordo Potrebbe essere Riguardante Intendi La I caduti Che si stanno Riunendo Che si stanno Riunendo Post L'invasione Di marbas Perché Quello Se si riferisce A quello Penso Sia uno Un po' Di Quei segnali Generici Di Primo Poi Faremo Qualcosa Sui caduti Sì Sì Perché Marbas Che è un caduto Che è diventato Principe demone Abbastanza recentemente Ha condotto Un'invasione Nella roccia Dei Angeli Scuri E ha causato La fuga Di L'evasione Di Luthor Luthor Quindi è scappato Non si sa Adesso dove sia Ma Recentemente Si stanno Verificando Sempre più Riunioni Più Assembramenti Di Caduti In vari Punti Della Galassia E Adesso Ci sono Indagini In corso E Diciamo Che Sembra Che ogni Tanto Lancino Un po' Quei Suggerimenti Del Abbiamo In mente Qualcosa Per i Caduti Prima o Poi Vedrete Qualcosa Non lo Sapete Ancora Ma Prima o Poi Qualcosa Ci Facciamo Poi Magari Adesso D'esempio Magari Scopriamo Che Dopo Zona Di Guerra Charadon Hanno Già Un Supplemento In Mente Magari Lo Stanno Già Scrivendo Però Attualmente Però Lo Stato È Quello La Cosa Che Mi Incuriosisce Molto E Leggere Poi L'articolo Su White Dwarf L'index Hereticus Dei Caduti Perché Potrebbe Magari Includere Qualche Piccolo Suggerimento Sullo Status Attuale Dei Caduti Di Marbas E Luter Non Si Sa Era Legato Al Fatto Della Missione Dei Primaris Nella Cerchia Interna Ah Ok Hanno Giunto Qualcosa Perché Bene o Male Mi Pareva Tanto Li Controllassero Mentalmente Bene o Male Li Stavano Iniziando Ad Accettare Dopo Lazarus Alla Fine Hanno Iniziato A Inserirli Ad Esempro I Veterani Guardia Della Lama Adesso Bene o Male Sono Accettati All'interno Della Guardia Della Morte Effettivamente Non Solo All'interno Di Rango Puramente Militare Ma Anche Effettivamente All'interno Della Cerchia Interna Un Caduto Che Diventa Principe Demone E A Tutti Gli Effetti Un Caotico O Mantiene Sempre Una Fedeltà Indipendente Obivalente No Beh Se Un Caduto È Caotico Il Caduto Aspetta Adesso Metto Comunque Già Un Pochetto Di Volume Il Caduto Che Si è Dedicato Al Caos Diventa Principe Demon E Sei Caotico Un Caduto Che Non È Propriamente Caotico Non Diverrà Assolutamente Un Principe Demon Alla fine Bene o male Un Caduto È Uno Status Non È Veramente Avere Una Linea Di Pensiero O Propriamente Una Fazione Un Caduto Diciamo Che Come Dire Sono Un Cittadino Imperiale Di Quel Pianeta Come Dire Sì Ok Vieni Da Lì E Sei Catalogato In Quella Cosa Ma Non Detta L'attual Linea Di Pensiero Quindi Un Caduto Caotico Potrebbe Diventare Un Principe Demon Un Caduto Non Caotico Non Lo Diventerà Gli Uomini Più Scazzati Del Pianeta Sì Ho Visto Che Ne Disputevate Ieri Su Telegram Infatti Ho Partecipato Brevemente Perché Effettivamente Non Sono Eddie Adam Non Sono Propriamente Degli Uomini Da Parcoscenico C'era Oddio Non mi ricordo Il suo Nome Lo Seguo Anche Su Twitch Ogni Tanto Molto Ogni Tanto E Pro Sperò Controlli E Probabilmente Adesso In Live Perché Probabilmente Anche lui Sta Seguendola In Live Ma Purtroppo Non è Che leggo Il suo Nome In Ogni Caso Non so Se Ricordate Che Un Tempo Le Live Twitch C'era Un Ragazzo Che Aveva Oddio Aveva dei capelli Particolari Tipo Sempre i capelli Con Una Certa Coda Particolare Barba Abbastanza Lunga Rob Grazie Miller Grazie Baste Facioli Grazie Miller Rob Ecco Lui Tempo Fa Lui Lavorava In GV E Lui Effetti Entra Molto Più Uomo Da Palcoscenico Lui Era Molto Carismatico Lui Era La Persona Da Piazzare Davanti Alla Telecamera Sì Sì Lui Era Perfetto Poi Si è Dedicato Ad Altro Adesso Anche Lui Al Su Canale Twitch Fa Altre Cose Ovviamente Fuori Da Twitch Non Fa Solo Quello Infatti Ogni Tanto Qualcosa Di Suo Leggo Vedo Però Lui Era Veramente Il Tipo Di Persona Perfetta Per Qualcosa Di Questo Tipo Lui Sapeva Caricarti Tantissimo Anche Per La Minima Cazzata Lui Sapeva Dare La Carica Dio 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 Comunque Comunque Strettamente Legato A GV Perché Comunque Fa Sempre Cose Legate A Warhammer Però Ha voluto Diventare Indipendente Ha Aperto Il suo Canale Youtube Di Pittura Ha Senso Alla Fine Ha Senso C'è Chi Addirittura Ha Parlato Di No Ha Tradito Games Workshop Raga È Un Lavoro Non È Una Fede Non È Una Legione Capisco Che Manchi Era Sicuramente Una Figura Fantastica Però C'è Comunque Il suo Canale Youtube Se Non Lo Vuole Seguire Fa I Vidi Magari Non Fa Ovviamente Più Trailer Delle Cose Di Warhammer Però È Un Lavoro È Riuscito A Farsi Un Nome È Riuscito A Farsi Un Nome Quindi Ha Assolutamente Senso La Decisione Di Diventare Più Indipendente E Quindi Farsi Mettersi In Proprio Diciamo Ecco Per come si vedeva più Duncan Sì esatto Adesso è rimasto Pici Per I video di pittura E Forse qualcun altro Adesso Non li seguo Quindi Duncan è diventato Indipendente Ah Che cazze Subito Così Ha ragione Sulla 7 e 5 Effettivamente Dopo Diciamo Giustamente Si parte con gli orchi Almeno Questo è fatto Mi piace che li chiamino Biki Giz Che effettivamente Tipo I bichi Il vecchio Il classico Non mi ignoro Che Fin dagli anni 80 Si portano dietro Gli space marine Dato dagli orchi Un metodo set Efficacissimo Immagino Tramando Grotts' 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 We don't do no hiding That place stooping I gots a better one Right Mi pare sensatissimo E' un'mostra'n'anda Che belli! Ma quel cappellone? Quanto bello! Belli, belli, fatemeli vedere meglio. Su, su, su. Sembrano molto figli. Uff, fate vedere bene. Vederli così molto carini, spero li facciano vedere un po' meglio, perché presumo facciano vedere man mano poi ogni modello, uno ad uno. E' davvero bellino quello che è, è cappelluccio, è cappelli e barba. Quindi vuol dire che ha degli squig capelli terribili, perché vi ricordo che sono pelati, quei loro cappelli sono squigli. Quelli lini! Mi piacciono perché appunto, un po' come sono gli Iron Joes in Age of Sigmar, hanno dato quella cosa per cui vedi proprio che sono mezzi scassati. Cioè sia un po' gli orchi classici, orchi di 40k, che gli orchi neri, i vecchi di Warhammer Fantasy, hanno un po' quel difetto, secondo me, di avere le armature tremendamente perfette. Tremendamente lisce, perfette, tagliate perfettamente. E invece a me piace tanto che poi lo stile un po' più, lo stile più recente, faccia vedere quanto in realtà loro abbiano dei pezzi di ferraglie schifosissimi. Piegati male, terribili. Questo qua è bellissimo, raga. Ragazzi, è ben magnifico. Questa cosa di avere la ruota al posto delle gambe. Quanti pet stanno facendo vedere in questi giorni? Sì, no, ma palese Kamikaze, cioè, è andato per ammazzarsi, cioè. Sono molto curioso di vedere gli altri. No, infatti, gli orchi, appunto, per quello, dico, gli orchi di Geosigman, gli Iron Geos, si ricavano le armature in maniera piuttosto terribile, quindi, dico, ha senso che siano nette scassate. Lo trovo una scultura più bella. Ma che cazzo, sto squig? È bello, bello. Bello, bello. Perché inizialmente sembrava fossero fondamentalmente degli orchi ferali rinominati, però in realtà poi, guardando meglio, man mano che hanno fatto vedere qualche notizia in più, non sono proprio così totalmente ferali. Vedi, anzi, hanno addirittura comunque dei dock che li vanno, che sono anche più, parrebbe persino più competenti, e vanno effettivamente a installare pure cose più complicate. Sono più selvaggi per ciò che usano, perché sono, appunto, molto squig, molto meno meccanizzato e più bestie, però poi sulla protesi, invece, sono molto attrezzati. Sono anche un personaggio. Sono molto old enough that I remember playing orc armies with Zodgrot Wartsnagger in them many, many moons ago. For Warhammer fans of a certain vintage, this orc will be very familiar, although reborn and, frankly, bigger and better than ever. Zodgrot Wartsnagger is a runthard of incredible notoriety. He was chucked out of his clan because he does a thing which is considered unthinkable, which is he believes in the power and worth of the humble grot. And so he gathers to him Gretchen and Snotlings and trains them to be better than ever they thought they could. And the result is a mad assembly of Gretchen who will follow him to the ends of the earth and a runthard that no one might trust in that very same thing. No, it's absolutely true. So this is a character, and I think you were alluding to this, when we were chatting earlier, Adam, that has its origins in some of the very, very early orc books that we saw in second edition Warhammer 40,000, maybe even earlier than that. But a character that we haven't seen in Warhammer 40,000 for about 20 years, and he's back. And the new miniature is just really fun. He's got kind of really wiry hermit sort of look to him. The hair, obviously, on orcs, they don't tend to grow their own hair, so that's probably some kind of hair squig that's been, like, surgically attached to him somehow. He's got some really nice little touches, so he's missing a leg like a lot of the beast snaggers that's probably been bitten off by a squig at some point. And he's got a gun there, you see, he's got like an injector needle, so that's what he uses, as well as being a runthard for a monster, he's also like a monster, tamer and catcher, so he'll use that and inject it into the squig off or monsters or something. I've also cresciuto un occhio, vero, vero, ma poi sono occhi, figurati. Non mi stupisce mai particolarmente questa cosa. Molto bellino come re-immaginazione di Zodgrod. Perché mi ha lanciato fra gli squigli e ne sono uscito capo branco? Certo, certo. Bellino andare a recuperare un vecchio personaggio di seconda edizione, per una cosa del genere. Bellino. You can see what I'm guessing are staples connecting it to his head. So I'd like to imagine he's found a hair squig and literally stapled it to his bones. Yeah, that's probably true. I mean, a hair squig, traditionally, if you go back to your origins of orc lore, tended to be kind of parasitic creatures that orcs tended to attach to their heads, but they had a tendency to kind of fall off and wander off. So you might need to kind of attach... No, no, son contento che abbiano recuperato un personaggio del genere. Encouragement to stay on. Encouragement to stay. And the other thing is, of course, what he would do for the Grot unit, that you could select one Gretchen unit in your army back in the old day, and they would get better stats, they would perform better on the battlefield. And we're going to see a... Aviamo un copyright e intendiamo mostrarlo. Esatto, esatto. No, ma è un peccato come magari certi personaggi vecchi... Magari vengono... non vengono più nominati. Quindi farli un po', rinnovarli e riportarli un po' alla luce, fa piacere Eh sì, fanno la scatola Fanno una scatola iniziale, poi sicuramente poco tempo dopo li faranno separati Sì, tipo le sorelle, esattamente, è un buonissimo esempio effettivamente, è proprio lo stesso Magari un giorno vedremo pure il Dukas Lee I vari personaggi del Codex di quinta edizione, io li vorrei tanto vedere Ce n'erano tantissimi, ce n'erano tantissimi personaggi che non hanno mai ricevuto modello Codex Orti, infatti Come effettivamente si pensava, giustamente Ma sì, la scatola alla fine è una strategia vincente Perché la scatola è quella cosa che va a ruba immediatamente Si fanno un pacco di soldi gigantesco E poi pian piano le fanno, a un certo punto, le fanno uscire separati Sì, sì, sì Non ho mai visto i dadi delle sister, non so Erano dati normali, non so se non avevano tipo un simbolo particolare Normalissimi Vorrei vedere la copertina normale però, non si è vista Non la sono persa io, vero? O scemo io? No, beh, non credo farlo vedere solo gli Yorkie Che poi comunque degli Yorkie, almeno in questo caso abbiamo visto un po' più roba nuova Ok Cos'è sta musica? Cos'è? So we've got a new type of Orc Ah, ok, intervista Sì, però sai cos'è? E' che comunque le sorelle veramente erano tre modelli Erano tre modelli che non avevamo visto Tutto il resto proprio vistissimo Qui almeno stiamo vedendo un po' di più Cioè abbiamo un materiale per un'intera scatola Cioè il personaggio Più di un personaggio Unità di fanteria Cioè c'è effettivamente un po' più di roba da trattare Quindi almeno in questo caso trattare un po' più di tempo gli Yorkie senza Però comunque non mostrino solo loro Però Però effettivamente almeno loro meritano un po' più di spazio Per effettivamente quello che fanno vedere Sì, ma delle sorelle tutte quelle PG Cioè le truppe Le truppe l'avano già viste C'era tutto già visto Le uniche cose nuove erano solo il personaggio No, anzi, i tre personaggi Neanche due Con il resto l'avamo già visto Mentre qui almeno bene o male c'è un po' di roba Di Zogrod Wortsnager Che è un tipo di rogue runthurt Quindi La legenda dice che Si è diventato Ossessato con Buon arrabbiare Il più più e più E' un po' di grotto Che è qualcosa che i molti altri Yorks Pensano fosse un po' di spazio E a un punto Si è finita a tirare un mech boy Con il suo proprio shock attack gun Perché si sente che Si è diventato Spazio le super grotto Si è esilato dal suo clan E si è diventato un rogue runthurt Ti sta un po' raccontando la storia di Snowbroth Che comunque alla fine Quello che sto sentendo Corrisponde a quella che aveva in seconda Più o meno Ok giustamente ci precisa La cosa che tanti avevano comunque già pensato Inizialmente tutti dicevano Ma sono gli snakebite E no Perché sono una cosa a parte Giustamente ci dice alla fine Gli speedfreaks Quelli che appunto Sono il culto della velocità Non sono solo di un clan Ci sono ovunque Solo che i soli maligni Ne usano di più Dice la stessa cosa qua I beast snaggats Ci sono ovunque Ma gli snakebites Per la cultura che hanno Ne usano di più di altri Se è un orc fan Come si è un orc fan Come si è un orc For years Or somebody brand new I think If you're brand new To orcs It's a great opportunity To start a new type Orc army That's never been seen before With the beast snaggers You could really Kind of Just lean into that theme And just collect that It would be a great Starting point And if you're an experienced Orc war boss And if you've got Loads of orcs already This will give you Like a whole load Of new orc things To explore And really kind of Give you a different way Of maybe playing With the existing miniatures That you have And the way that they Kind of synergise And work together So I'm a big fan Of the orcs The earth and orc army I'm lucky enough That mine appears In the book In the crusade section Which was a real privilege And I think My favourite thing About the beast snaggers Is that they really feel Like they're kind of Building on a really strong Archetype of orcs That we maybe not really Played with before All the way back again You know E i fin di bustieri Sono anche altre gente Che vorrei tanto vedere Sono un altro Delle diciamo Sottofazioni Delle sottopunture Orchesche Che vorrei tanto vedere Badrug ha bisogno Di Qualifiche Qualcuno a supportarlo Interessante Quindi vuol dire Che comunque Anche solo a livello Di regola Hanno voluto curare Questa sottopuntura Bello Mi fa piacere Non c'è Ah dai, sono 19.24, qualcosina ancora se non me la fanno vedere. È stato un piacere Marco, ti rivediamo. Buona serata anche a te. The Squighog Boys, all the characters that come in that set will be available separately, alongside the Orc Codex, which follows Hot on its heels. And the Codex itself, the only thing that's exclusive about it in that box is the cover itself. Sure. Great, thank you. The next one was, people are asking when. You know, we don't normally answer the exact details, but what sort of timeline do you think we're looking at? So we've got to be fairly close, otherwise we wouldn't be talking about quite so much, would we? So we don't have too long to wait. My suggestion would be that if you're excited right now, maybe go and have a look at some of the current Orcs, and decide if you want to start a collection. Certainly, I've been talking to a few people, who had a 10-time list of credits on that, poi i modelli arriveranno dopo, vabbè, questo si era capito, si sapeva. Non hanno ancora parlato di una timeline precisa, però bene o male hanno detto tra poco, quindi magari giugno. Magari giugno-lugno. Magari giugno-lugno, no, beh. Sì, non è un po' più giugno. o do they fit in amongst other clans? How do they fit in to the Orc culture? L'ha già detto nell'intervista, Adam. Ti assicuro che questa domanda è stata già molto risposta nell'intervista. Poi dall'altra non ti piacciono, perché le persone sono davvero due di comprendogno, quindi ha senso ribadire due volte. Sì, 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 vabbè. Ha senso ribadire, eh. Guarda anche tre volte, che quattro. La cosa è che sono una sottocultura comunque diffusa in tutti i clan, non sono il loro clan. Ah, figo. Ok. Beh, magari mostrano solo gli Orchi, però effettivamente stanno mostrando altro sugli Orchi. Molto bello. Sì, finalmente un megacapo, cioè, sì, appunto, capoguerra in... capoguerra in mega armatura. Veramente. Alleluia. È stato in il Codex un po' di volte e ci sono stati molti orchi che hanno chiesto l'opportunità che hanno chiesto di aggiungere un proprio loro mega armato warboss a loro forza, ma hanno primaverso avevano usato il model di Gasgill o Fudge con loro fuori di diverse parti e bobs. Ma ora hanno un kit dedicato. È molto importante. È molto importante. È un enorme warboss. È veramente grande. di alcuni orchi in l'armi oltre di Gasgill e ha il più grande orchi in il Codex che è ancora più grande che i megacopi con persone di Yambut. Dovrei cercare. Sono i miei orchi. A tre, Yu. Sono contento che tu abbia riscattato l'ora degli annunci ma siccome stiamo seguendo un evento speciale in diretta al massimo lo posso fare dopo. Sì, non siamo ancora stati ancora. Ci sono un po' più. Warhammer 40.000 ancora di riuscire. Siamo arrivati alla prossima cosa. Quindi, ciò che vediamo qui è un kit upgrade per le Kadean shock troops dell'astromilitarum. Ma l'ho detto ieri. È certo, Eddie? Sì, è assolutamente certo. Le Kadean shock troops sono l'archetypal guardi che la maggior parte di regimente in la galaxia sono inspiraati. Ma una delle cose che sappiamo dell'astromilitarum e soprattutto le Kadean sono un vasto ma ragazzi rifanno il kit dei Kadeani. Lo dicevamo giusto ieri. Pazzo po'. Che bello, finalmente. E gli altri reggimenti vedremo però alla fine il Kadean è quello base. E anche se hai anche tutte le opzioni speciali che i tuoi guardi hanno avuto nel suo codex da sempre ora vengono nella box. Meno male, anche le opzioni degli armi speciali sono nel kit. Alleluia. Raga, avete visto? Hanno facce diverse. Finalmente. I Kadeani non sono tutti i Kadeani adesso. che avrà avuto con i Kadeani molto presto. Poi vedi tutte le componenti qui. Ora è il momento di stare molto vicino al tuo screen. Ci sarà una foto di questo di Warhammer community. Non preoccuparti che puoi andare a vedere un più dettaglio. Perché qui puoi vedere solo il mio preferito. Meno male. Ma poi così? Ma buttato lì. Adoro avere ragione. Guarda, se hai ragione su queste cose io sono felicissimo. ma non lo so perché alcuni visi non capisco se siano tipo un femminile semplicemente non non viso anime style. Perché alcuni mi sembra possano essere femminili solo che appunto non hanno proprio il tratto da anime girl. Tipo l'ultima a destra della seconda fila. a me sembra un po' più femminile. and everyone kind of looks the same but we should take the helmet off all of a sudden you can start to see that the astromilitarium is an equal opportunities employer. Everybody's grist for the mille, right? Also, best comment ever in the chat. I don't know if you can use them in every clan Tommy2 cans. That was amazing. Well played. Which I think is just nice. It's a great way of the Warhammer studio and the miniatures design team No, lo so accentuare però dico da una parte preferisco un po' meno accentuata che anime girl. so many so many planets within the Imperium when they export guard as the imperial tie towards the armies of the astromilitarium they model their troops off of Cadia so even though Cadia is now essentially rubble Cadia still stands and its legacy will continue on for some time yet to come Poi per carità non è un insulto è primo che us istruisce di anime però nel senso dico preferisco in questo caso un po' meno quello stile in questo caso o così tirato al volo dove sono più saggi e vanno tutte nel punto di giurato eh beh ha senso capisco il punto di vista make it your own which is one of the things I just really like about the Warhammer hobby really yeah absolutely so we're not quite done yet ok I believe Raph is racking up the next thing I'm quite excited about this as well I mean I've got several armies that are dear to my heart and one of them is certainly the orcs but another one of them is maybe teased a little bit in this video let's have a little tease quelli sono GK Thousand Sons quelli sono GK Thousand Sons throw li hai chiamati eh li hai chiamati oh pazzo si vanno ste cose si lanciano cosi taus in sosse per aver ragione oh guarda un po' lei mi ruba il lavoro guarda lì ma dimmi te ma dimmi te dal fatto che siccome alcuni cavalieri grigi erano stati uccisi o comunque rimasti imprigionati sul pianeta degli stregoni c'era appunto un personaggio che gli dicevano comunque sentiva la colpa sentiva la colpa del aver lasciato i suoi confratelli lì quindi secondo me potrebbero magari riprendere un po' quel pilone ti faccio una previsione non parla se non è per il caos nuovo pg dei taus e due pg dei grattoli allora scusatemi poi riguardo bene perché purtroppo ho letteralmente distolto un po' gli occhi dal vero filmato perché per un attimo la live stava andando a rallentatore e quindi non capivo stavo cercando di seguire quello e mi sono perso benissimo non ho guardato benissimo le figure mostrate quindi potrei rivederlo bene perché effettivamente potrebbe un pg di taus in 2GK potrebbe anche che esserci una nuova versione di Caldor Drive considera che il modello comunque è vecchio ormai poi ovvio ci sono modelli molto più vecchi teoricamente però stiamo parlando di Space Marine si a quinta edizione si a quinta edizione no non dico che è sicuro però dico abbiamo visto modelli più recenti riceverne uno nuovo quindi dico non è neanche che non è per forza del scudo ok andiamo su Warhammer Community a guardare immediatamente a monte sulla pagina e infatti mi incuriosiva che ho guardato ho visto effettivamente il Dread Knight e ho detto ma è diverso aspetta un attimo andiamo subito a guardare ah vedi vedi tipo questa lo vedete il cursore vero questa a me sembra un po' più femminile anche questa anche se ho una capigliatura di merda allora fa vedere fa vedere si stanno chiamando Crow vedi ti hanno detto però non hanno mai sentito parlare di te mi dispiace cioè stasera è proprio allora dobbiamo riguardare bene a questo punto ce lo riguardiamo fate vedere sopra è stata una nuova una nuova sub di Santo Dio grazie è l'esclamazione che vorrei dire perché ti sei ti sei iscritto sei sabbato grazie mille grazie mille allora ripeto vedete il cursore vero credo di sì ma non lo so io comunque qua vedo le braccia e comunque mi pare di vedere le gambe no il Dreadknight mi sembra abbastanza uguale ma non lo so secondo me quella è un po' più una cosa semplicemente di illustrazione per il trailer però il design è identico alla fine non c'è nulla di diverso le spalle spero che facendo questa cosa la live non esploda ditemi se inizia esplodere ti giuro che a me sembrano uguali ti giuro che a me sembrano uguali però non esplode grazie grazie non lo so secondo me però ma sei qualcosa qualcosa che ci nascondi non lo so a me così sembra identico ma poi magari ci fanno vedere qualcosa io sono il primo che spera che lo rifacciano per carità però boh vabbè andiamo avanti vediamo e qua vabbè personaggio di zinc c'è nulla di diverso dal solito nulla di nuovo qui vabbè stiamo palesemente parlando dei personaggi che saranno i classici personaggi nuovi nella scatola di modelli già esistenti questo è crow però gli hanno fatto non mi ricordo non aveva la testa scoperta non aveva un'opzione per testa scoperta crow no quindi ne mostrano il volto si vabbè il volto poi per quanto possa avere il volto particolare lui ok boh il personaggio lo stregone è abbastanza normale sangor guarda guarda la spada fa vedere fammi vedere che potrebbe essere effettivamente una cosa allora se io metto sangor eh no guarda che è uguale guarda che è lui guardalo è è questa qua sì sì no beh il crow è sicuro perché lo nominano lo nominano e si vede che è lui a parte avere la testa scoperta è identico è proprio lui quindi sì nuovo modello di crow confermatissimo grazie a me per essere passato baro grazie mille questo guo di pesce stasera e allora vai e allora è giusto no lui è identico sì dai lui è preciso preciso grazie mille baro grazie mille bene bene no beh lui è identico alla fine invece questi qua bene o male sono i personaggi nuovi poi bisognerà un po' vederli meglio perché così non è che hanno proprio queste 7000 differenze cioè almeno lo stregone così lo vedo abbastanza base come personaggio però beh alla fine si tratta di rifare crow bello spero anche che l'uscita di crow adesso non c'entra nulla con i modelli però spero che l'uscita di di un nuovo modello di crow voglia dire che david annandale scriverà il terzo romanzo sulla sua della sua serie spero qualcos'altro no ok nulla di no non c'è nessun suggerimentino vero mother day of fantastic reveals tomorrow vi evito un good authority that it's a big one vediamo spero 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 e fa vedere che magari si vedono un po' meglio si alla fine è un kit che è stato un po' rifatto secondo me hanno comunque mantenuto parzialmente gli stampi già esistenti però si vede che appunto l'hanno fatto d'altro l'hanno definito loro un upgrade le carte qua sono un tocco interessante no bello bello alla fine è un upgrade non è che bisognava alla fine i cadiani sono quelli no presumo sia un kit rifatto a parte però allora le cose sono due secondo me potrebbero essere nuovi componenti di cui hanno aggiunto una sprue potrebbe essere che hanno adesso fanno lo scatolozzo con le sprue già esistenti più queste nuove quindi tutto il kit già precedente ma con tutte le novità aggiunte quindi tipo tutte le opzioni di testa aggiuntive le armi speciali e tutte queste cose qua che bene o male rinnovano il kit ci sarà scritto magari perché magari effettivamente c'è qualche dettaglio preciso ah vedi infatti le scatole di truppe d'urto cadiane saranno migliorate con una nuova sprue di parti addizionali appunto quindi il kit è già esistente ma migliorato con dei componenti nuovi bene bene beh è comunque un miglioramento alla fine perché dai le armi speciali per cui effettivamente gente si doveva comprare kit in più o andare a recuperare bits da qualche altra parte e roba solo per farsi le armi speciali invece già almeno risolvere questo problema e metterle nel kit tutte meglio potrebbero anche fare entrambi eh comunque darti il fartelo così insieme ma vendertelo anche separatamente secondo me non sarebbe proprio un'idea cattiva perché alla fine magari c'è gente che semplicemente ce l'ha lì ha dei kit lì non ancora montati e vuole delle teste in più non sarebbe male secondo me o anche aggiungere delle teste a truppe di altro ti cioè secondo me non sarebbe proprio cattivissima come idea venderlo anche separatamente anche bello lui aspetta che lo guardiamo un po' meglio intero intero detto sei troppo grosso non ci stai ok grazie è proprio bellino questo è poi da guardare a 360 gradi però così pare davvero bellino grazie mille crow madonna mia che che veggente oggi potentissimo complimenti buona serata stupitissimo della tua potenza ok e boh il resto bene o male abbiamo visto non ci hanno mostrato purtroppo la cover la copertina standard del codex orchi peccato peccato o magari è proprio questa comunque magari comunque è questa ma con la con tutto codex orchi warme 40.000 e tutte le cose scritte come devono magari c'è comunque però non ce l'hanno fatto vedere snogrod è davvero bellino ovviamente fate attenzione perché magari non si non si nota ma non è una chela è un bastone che ha in mano qua c'è la mano e infatti è il bastone rinnovato cioè se vi andate se cercate snogrod e vedete il vecchio modello capite qual è il design capite bene come qual è l'idea effettivamente guardate che ce l'ha tipo attaccati guardate ce l'ha attaccati così cioè mentre di solito c'è lo squig a capelli vedete che ce l'ha proprio piantato alle cose quasi se l'avesse con la spillatrice è terribile nuovi eserciti non credo secondo me potremmo vedere cose come i beast snagas ovvero tipo grosse sottofazioni che vanno ad aggiungersi a un'armata già esistente ma secondo me è proprio un nuovo esercito non credo secondo me no belli bellini le truppe anche loro le guardiamo un po' meglio riusciamo ah bellini bellini poi tutte con le pelli con le pelli di varie bestie uccise proprio bellini mi piacciono molto io non sono mai stato un grandissimo fan dei modelli degli orchi devo dire io sono sempre stato quello che se avesse mai fatto un'armata di orchi avrebbe fatto esclusivamente moto perché le moto mi piacevano molto mi piacevano mentre invece la parte di fanteria nè non mi è mai piaciuta così tanto proprio a livello di modelli non mi hanno mai appassionato così tanto questi invece mi ispirano molto e no infatti il codex orchi non beast snagas è quello appunto dico secondo me potrebbero fare magari altre cose come questa ovvero aggiungere comunque una grossa componente cioè dici comunque è un letteralmente un intero pezzo di codex un intero pezzo d'armata e di questa sottofazione e dico secondo me potrebbero fare magari qualcosa di questo tipo per qualcun altro qualche sottocultura sottofazione o quel che è però secondo me è proprio un nuovo codex come dire che ne so esempio totalmente a caso magari che ne so fare una cosa degli innari degli innari ma che comunque rientra nel codex arcamondi o comunque codex elder quel che è tu vai grazie mille per essere passato per aver commentato insieme a me a noi buona serata buona serata e niente boh quindi bene o male comunque abbiamo abbiamo discusso abbiamo visto bello bene bene sono sono contento alla fine sì c'è stata una prevalenza di di orchi però comunque abbiamo visto un bel po' di più rispetto alle novità che avevamo visto per le per le sorelle bello e poi effettivamente le altre cose che hanno mostrato sono mi sono piaciute hanno fatto vedere questo nuovo kit cadiano che comunque è tanto atteso bello sono contento che finalmente si possa avere un kit migliorato della guardia e poi vabbè un teaser comunque su sull'arrivo di qualche novità su su cavalieri grigi e thousand songs che ovviamente vuol dire che comunque i loro codex arriveranno un po' prima di altri e ma dipende alla fine il prima rifare gli orchi normali alla fine è sempre quella cosa per cui non rifaranno mai tutto prima di aggiungere cose nuove perché il tempo che tu passi a rifare tutto nuovo di ciò che esiste già non aggiungerai mai nulla perché i tempi di produzione finché rifai tutto quando li torni ad aggiungere sono passati vent'anni quindi fanno un po' tutte e due ma perché sono appunto una sottocultura sono chiaramente diversi stonano ma perché devono stonare sono effettivamente qualcuno si distinguono ampiamente da altri se sono snakebite ovviamente praticamente potresti comodamente di fare unità normali di orchi ragazzi con sti modelli perché gli snakebite sono loro sono fatti più o meno così ma alla fine dico che si distinguono tanto e ha senso come d'altronde si dovrebbero distinguere appunto i soli i culto della velocità o altre cose ah ok intendi quello ok e quello ovviamente magari potrebbero anche gli orchi ragazzi alla fine sono anche come dice Wallag gli orchi in generale sono effettivamente tra le linee più ricche aggiornate gli orchi ragazzi sono effettivamente tra le poche cose che rimangono ancora molto indietro con i tempi però bisogna comunque dire che bene o male almeno già con questo kit dei beast snuggles se magari ti metti a modificare qualcosina un kit dei ragazzi rinnovato ce l'hai quindi adesso non so essendo che comunque hanno i loro schemi di colore se magari li rendi comunque tutti uguali alla tua armata puoi comodamente dire che sono ragazzi quindi secondo me comunque dici ok non c'è non c'è un kit nuovo per gli orchi ragazzi base ma comunque hai qualcosa che ti permette abbastanza di farli con facilità che a volte è quello appunto adesso non mi vengono purtroppo esempi al volo ma ci sono appunto alcuni kit che sono novità in più ma che bene o male hanno abbastanza un design adattabile a qualcosa che ancora non ha ricevuto un nuovo kit poi si appunto magari anche lì magari li faranno però c'è ben di peggio si quello indubbiamente si sono un po' più grossi effettivamente però ci può ancora stare alla fine gli orchi hanno tutte le dimensioni a cazzacci loro quindi potrebbero comodamente essere usati alla fine non lo trovo non lo trovo neanche una cosa così terribile alla fine sì allora se faranno i nuovi nuovi orchi ragazzi secondo me non saranno proprio così dissimili da questi qua e boh bene bene quindi ragazzi ho detto comunque bella serata c'è stata c'è state cose interessanti mi è piaciuta mi è piaciuta di più rispetto alla serata la prima serata di Warhammer 40.000 e detto questo noi quindi ci rivediamo domani sera domani sera location cambiata perché sarò dall'astropatata quindi vedrete di nuovo la leggendaria credenza per chi sa vista anche lunedì e quindi ci vediamo appunto domani domani sera oggi tra l'altro oggi questa mattina abbiamo finito la storia principale di inquisitor martir prossima settimana ultime cosine forse la prossima settimana potremmo prossimo giovedì potremmo già iniziare Space Hulk Devwing e ringrazio Carnival90 per il follow grazie mille molto apprezzato e e e e e e e ci aggiorniamo poi per per l'anteprima di zona di guerra Chardon gli abbonati riceveranno un'anteprima in questi giorni quindi se volete arriva nel weekend tra domani e dopodomani e e e e altri news non credo di doverne di doverne dare quindi l'appuntamento a parte ovviamente sul gruppo Telegram gruppo Facebook quindi a parte qualche scambio di messaggi noi ci vediamo ci rivediamo domani sera sempre alle 18.40 per vedere questa mistica mistero mistica sorpresa che ci attende domani sera faremo le nostre ipotesi ne abbiamo già ne abbiamo già fatte magari ne faremo di nuovo ragazzi è stato davvero un piacere avervi anche stasera qui con me per seguire e commentare tutto questo grazie per il seguito che stanno avendo queste live grazie mille non smetterò mai di dirlo e quindi vi auguro buona serata buona cena anche chi non l'ha ancora fatta e è domani sera ciao ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti